Professore, questa mattina all'impianto di Asia Impianta Derezzo per parlare di economia circolare. Sì, l'economia circolare è un modello di vita, è una filosofia più che uno stile di produzione di beni e di servizi. L'economia circolare non l'abbiamo inventata noi, non l'ha inventata un economista, l'ha inventata la natura. Sul principio dell'economia circolare la vita ha continuato a prosperare su questa terra, dalla sua comparsa, 3 miliardi di anni fa. E noi in 200 anni siamo riusciti a mettere in ginocchio il nostro pianeta. Quindi dobbiamo imparare dalla natura come ritornare ad un modo di vita più compatibile per conservare il nostro tenore ma rispettare anche le esigenze naturali. Professore, il singolo individuo nel suo piccolo cosa può fare per migliorare, per cercare di migliorare e di rispettare questo nostro pianeta che ci fa sopravvivere e vivere? Sì, naturalmente. Il singolo individuo per prima cosa può prendere coscienza del problema. Perché potrei dire che bisogna chiudere l'acqua quando ci si sta strofinando i denti con lo spazzolino, oppure fare la raccolta differenziata in maniera corretta. Ma sarebbe un po' limitativo. Quello che dico io è interessarsi del problema, perché poi ad informarsi è abbastanza semplice, e rendersi conto che questa dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale, è un'impresa collettiva, in cui tutti quanti siamo delle particelle ma l'insieme è costituito dai singoli componenti. Non è un lavoro per supereroi. Se venisse l'incredibile Hulk qui sulla Terra non potrebbe fare niente contro la contaminazione ambientale. I supereroi possiamo essere noi, ognuno di noi.